Dopo l'enorme successo della settimana della musica scuola 25-30 maggio 2020, siamo in onda sul web che ha ottenuto oltre 60.000 visualizzazioni ed ha riscosso il consenso di musicisti, giornalisti ed importanti personalità del mondo della cultura. Domenica 21 giugno i 32 licei musicali e di 6 licei coreutici della Campania affronteranno una nuova sfida, la festa della musica che non conosce confini di città in città, di scuola in scuola. Farà sentire il messaggio dei giovani studenti della nostra regione. Ogni liceo musicale e coreutico della Campania ha realizzato un video in una location di interesse artistico del luogo di appartenenza della propria scuola con una solista oppure con un gruppo musicale o di danza rispettando tutte le regole dettate dalla situazione epidemiologica. L'iniziativa vuole valorizzare non solo le giovani eccellenze musicali della regione Campania ma anche le innumerivoli bellezze artistiche e naturali di cui possiamo andare fieri nel mondo. Il liceo musicale Alfonso Gatto di Agropoli parteciperà all'evento con un video del quartetto di sassofoni in formato da Alessia Astorino, Rosa Morinelli, Davide Panariello e Giovanni Romeo delle classi quarta e quinta musicale che seguono The Easy Winners. La ripresa è stata effettuata sulla sommità degli scaloni davanti alla porta d'accesso al Borgo Antico con riprese anche al Castello Angioino Aragonese, del Porto e del Lungomare San Marco. Nell'incantevole cornice delle immagini della nostra città echeggiano le note del celebre musicista che vuole essere un augurio al ritorno alla semplice normalità che tutti auspichiamo. L'appuntamento è dunque domenica 21 giugno dalle 15 alle 20 per seguire tutti i video delle esibizioni registrate dal vivo, i video delle orchestre regionali e delle compagnie di danza dei licee musicali e coreotici della Campania, oltre al dibattito con gli ospiti presenti.